Musica Mercoledì 7 agosto ben ritrovati con la nostra informazione. Controlli dei carabinieri di Biancavilla a tutela dei lavoratori agricoli. Due imprenditori sono stati denunciati. Elevate anche sanzioni. Sentiamo. A Biancavilla due imprenditori sono stati denunciati a piede libero in quanto i militari dell'arma hanno complessivamente scoperto 6 lavoratori in nera all'interno delle loro aziende. Combinati sanzioni per 8-20 mila euro per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza nel lavoro. I imprenditori quindi controllati dai carabinieri di Biancavilla e del nucleo ispettorato del lavoro di Catani i quali hanno ispezionato due cooperative agricole etnei che si occupano proprio della coltivazione raccolta e vendita di prodotti agrumicole. Nella prima cooperativa controllata i militari dell'arma hanno trovato due lavoratori in nero su quattro presenti. Quelli assunti non avevano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e non erano stati sottoposti alla sovveglianza sanitaria obbligatoria. L'imprenditore è stato denunciato e sanzionato con 7.000 euro più il recupero di 3.400 euro di contributi IMS e INAIL per i non assunti. Analoga situazione è stata riscontrata in un'altra cooperativa dove sono stati trovati quattro lavoratori in nero. L'imprenditore dovrà complessivamente pagare una sanzione di 13.500 euro. Non potrà quindi riaprire l'attività che gli è stata contestualmente chiusa fino a quando non avrà regolarizzato la posizione dei lavoratori irregolari. Nelle oltre 30 aziende controllate dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania è stata accertata la presenza di oltre 50 lavoratori irregolari e 40 in nero, compresi 6 extracomunitari. Il Nile di Catania ha anche arrestato due indagati in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso da GIP, denunciate tre persone per caporalato e denunciate altre quattro persone per violazione in materia di sicurezza e sui luoghi di lavoro. Mobida si cura ad Adrano controlli della Polizia e del locale commissariato alle attività del centro cittadino. Sentiamo come è andato. La Polizia di Adrano lo scorso fine settimana ha effettuato controlli presso esercizi commerciali trovando alcune regolarità. L'attività si è concentrata sui locali pub del centro interessati dalla Mobida, con la finalità di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico del centro cittadino, soprattutto in questo periodo frequentato da giovani, famiglie e turisti, e di accertare il rispetto delle regole in ordine di requisiti di sicurezza sul lavoro, igiene, tracciabilità dei prodotti e al possesso delle previste autorizzazioni e concessioni, con gli agenti del commissariato di Polizia di Adrano impegnati nei controlli anche i poliziotti della divisione anticrimine e della divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Catania, nonché il personale dell'ASP, dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Ospresal e della Forestale. Nel corso dei controlli sono state identificate numerose persone, tra le quali gli avventori dei locali. All'interno di un noto pub sono state rilevate e contestate carenze igienico-sanitarie, come la presenza di alimenti, nello specifico hamburger, non regolarmente confezionati ed inoltre è stata sequestrata frutta priva di tracciabilità e trattata con fungicida non autorizzato. Per lo stesso locale è stata contestata l'assenza di segnaletica di emergenza, nonché il mancato rispetto delle norme di sicurezza antincendio, con lo specifico riguardo agli estintori, risultati assolutamente inadeguati e non conformi per portata alla prevista normativa. A Biancavilla continua la battaglia del Comitato Cittadino che si oppone all'installazione delle antenne 5G sul tetto dello stable che ospita le suore salesiane. Dopo la presentazione della petizione popolare adesso si chiede un sollecito alla polizia locale, perché secondo il Comitato la parte complementare della struttura presente sul terrazzo sarebbe abusiva. Se andiamo. Ancora sul piede di guerra il Comitato Cittadino che si oppone alle installazioni delle antenne della telefonia mobile 5G e 4G posizionate sul tetto dello stabile di via Moncibello a Biancavilla di proprietà dell'IPAB, casa del fanciullo Francesca Messina che ospita le suore delle figlie di Maria Ausiliatrice. I cittadini, che ricordiamo hanno raccolto nelle scorse settimane le firme e presentato poi una petizione popolare agli organi competenti, adesso hanno richiesto un sollecito alla polizia locale attraverso una PEC dove si legge la sottoscritta Greco Anna, portavoce dei cittadini che hanno sottoscritto la petizione esposto antenne no all'installazione selvaggia e senza regole e conseguente richiesta di accesso agli atti, chiede un immediato intervento della polizia locale volto a verificare la regolarità urbanistica dell'immobile indicato in oggetto. Si ribadisce che nella citata petizione, si continua a leggere, è stato evidenziato che nel secondo piano del predetto immobile sono presenti pensiline verosimilmente in Ethernet e strutture complementari per i quali si ha fondatissimo motivo di ritenere che le stesse siano abusive. Nel sollecito il comitato allega anche delle foto riproducenti lo stato dei luoghi preinstallazione. I cittadini che si oppongono all'installazione inoltre scrivono è stato altresì evidenziato che il lastrico solare sul quale sono state montate le gigantesche antenne di telefonia ancorate a delle piccole basi in cemento create sul lastrico potrebbero non essere in grado di sopportare il peso delle stesse. Si tenga conto che sul lastrico solare, di cui non si conosce la tipologia di struttura, incidono già due vasche di raccolta acque ed un evidente lucernaio. A tal proposito si evidenzia che, sebbene espressamente più volte richiesto ufficialmente dalla consigliera comunale Melissa Pappalardo, non è stata ad oggi prodotta nessuna documentazione attestante la regolarità e la staticità dell'immobile e non è stato consegnato alcun documento riguardante il calcolo strutturale, lo schema grafico eccetera che attestino per l'appunto la regolarità e la staticità del sito. Intanto, lo ricordiamo, la società interessata all'installazione sta proseguendo regolarmente nei lavori di completamento. La regione siciliana, per fronteggiare la crisi idrica, mette in campo 15 milioni di euro che serviranno quindi a finanziare interventi da parte di imprenditori privati ma anche di enti pubblici. Vediamo di che si tratta. Per fronteggiare l'emergenza siciliana nel settore agricolo, la regione siciliana è pronta a intervenire con 15 milioni di euro. Si tratta di fondi stanziati con la manovra finanziaria approvata agli inizi di luglio dall'Assemblea regionale siciliana. La Commissione Attività Produttiva di Palazzo del Normanni, infatti, quest'oggi, alla presenza dell'assessore all'agricoltura Salvatore Barbagallo, ha dato parere favorevole all'avviso pubblico firmato dal dirigente generale del Dipartimento Dario Cartabellotta che stabilisce le modalità di attuazione della norma. Le risorse saranno destinate all'80% alle istanze degli imprenditori agricoli, anche in forma associata, e al 20% ai comuni. È un aiuto concreto ad agricoltori ed enti locali siciliani, dice il presidente della regione, Renato Schifani, in un momento di grave difficoltà per la persistente siccità. Ma la razza del provvedimento va oltre, creando i presupposti affinché in futuro non si arrivi più a questo punto. Per questo il mio governo, oltre a lavorare pancia a terra per contenere l'emergenza, sta mettendo a punto le misure più idonee per farci trovare pronti in occasione di nuovi eventi estremi. I pozzi e gli impianti di raccolta e di accumulo di acqua che saranno finanziati serviranno infatti anche per eventuali futuri crisi alle quali dovremmo far fronte, visto l'ormai conclamato cambiamento climatico, ha concluso così il presidente Schifani. Possono essere finanziati gli interventi di capitazione, raccolta e stoccaggio delle acque per uso agricolo e zootecnico, costruzione di nuove vasche e serbatoi per la raccolta delle acque, realizzazione di nuovi pozzi o per il miglioramento di quelle esistenti. Sarà possibile quindi coprire in osseguio ai regolamenti dell'Unione Europea l'80% degli interventi realizzati dagli agricoltori e il 100% di quelli degli enti pubblici. Torniamo a parlare a Paternò della riscossione dell'Atari 2016 ad opera della Sogert, l'azienda incaricata dal Comune per riscuoterla. Se la situazione per l'anno 2016 si va per così dire normalizzando, dovrebbero invece arrivare delle sorprese non certo positive subito dopo l'estate per gli utenti paternesi in merito all'Atari 2017. Sarà la stessa Sogert infatti ad occuparsene della riscossione con le stesse identiche modalità effettuate per riscuotere l'Atari 2016. Ma se andiamo a riguardo l'Avvocato Andrea Carmanello. Al momento per quanto concerne la riscossione delle somme coattiva possiamo dire che è stato tutto sospeso, nel senso che le somme che sono state trattenute risultano essere non incassate o se incassate solo ed esclusivamente la prima e la seconda rata rispetto a quella che dovrebbe essere l'ammontare del debito contratto dal singolo cittadino. Perché se facciamo riferimento ai pignoramenti delle buste paga così come delle pensioni è chiaro che l'intera somma non poteva essere percepita ma sulla base dello scaglione di proporzionalità si arrivava a contrarre fino a un massimo di un decimo. Viceversa quando la somma veniva direttamente trovata sul conto corrente e veniva bloccata se la persona, cosa che abbiamo ottenuto, chiedeva la rateizzazione, no solamente una parte è chiaro che gran parte delle persone si sono trovate il conto bloccato perché possibilmente quella cifra o meno di quella cifra risultava essere nella disponibilità di somma sul conto corrente in quel momento. Quindi in questo caso abbiamo ottenuto la possibilità di rateizzare grazie devo dire alla collaborazione proficua sia della società stessa che anche di una parte l'amministrazione comunale nella figura dell'assessore Messina che si è messo a disposizione nell'accettare le nostre richieste nelle nostre istanze di rateizzazione. Oltre che ad autorizzare l'apertura di un altro sportello, cosa che prima non c'era. Quindi allo stato attuale la situazione risulta essere rientrata rispetto a quelle che erano le pretese di creditizie ma attenzione sappiamo che questa procedura sarà utilizzata anche per l'anno successivo, quindi la tale 2017 perché così pare essere stata approvata e quindi aspettiamoci alla ripresa successivamente alle ferie estive che sarà notificato questi atti di ingiunzione e successivamente gli eventuali pignoramenti. A questo punto diventa fondamentale che nel momento in cui arrivano queste notifiche il cittadino provveda a informarsi sul perché o comunque contattare persone esperte e tecnici della cosa. Ad ogni buon conto facciamo riferimento anche al presupposto che c'è stato un aumento di tari deliberato recentemente in consiglio comunale e quindi la questione spazzatura sia da un punto di vista che della riscossione, sia da un punto di vista del tributo reale è la problematica principale da trattare nel Comune di Paternò e che deve essere presa in considerazione in maniera evidente. Ci sono varie modalità per poter ridurre la tassa, il conferimento presso la discarica comunale e anche l'utilizzo in maniera corretta di quello che è l'approvvigionamento e il riconoscimento della spazzatura rispettando quelle che sono le giornate. Questo ci permette di abbassare la cifra, tuttavia è fondamentale che il Comune faccia una campagna importante di sensibilizzazione sul tema, cosa che non viene fatta e che comunichi tempestivamente la notifica di questi atti, perché ricordo benissimo che l'atto di pignoramento non è stato mai notificato né comunicato debitamente da parte dell'ente comunale e i cittadini se lo sono trovato ingiustamente dall'oggi al domani e questo non è corretto come campagna di comunicazione. Sappiamo e lo dico per certo che da quando rientreremo dall'estate ci sarà quest'opportunità di recupero di queste somme, lo hanno detto loro stessi. Teniamoci pronti e prestiamo la massima attenzione. Ed ieri sera nell'ambito della rassegna estate Adrano 2024 ad esibirsi sul palco di Piazza Umbetto è stato il cantante Danger D'Amico. Vediamo. Jacopo Matteo Luca D'Amico in arte Danger D'Amico è stato lui il rapper e cantante milanese di origine siciliana ed in particolare dell'isola Filicudi ad esibirsi ieri sera sul palco di Piazza Umberto ad Adrano nell'ambito della rassegna Adrano Estate 24 organizzata dall'amministrazione comunale in occasione delle festività patronali. Che anche produttore discografico e discjockey ha intrattenuto il pubblico a corso anche da altri centri cittadini con le sue canzoni. Sono stati in tanti ad assistere al concerto applaudendo D'Amico e manifestando così il loro apprezzamento. Nel 2022 ha partecipato al festival di Sanremo con il brano dove si balla una canzone che ha poi riscosso tanto successo e continuamente passata nelle radio italiane. Nello stesso anno nel 2022 ha fatto parte della squadra dei quattro giudici di X Factor il Talent in onda su Rai 2. Ha partecipato al festival di Sanremo anche quest'anno con il brano onda alta classificandosi al ventesimo posto un brano che ha un significato particolare fortemente attuale ovvero la questione migranti che nonostante i fortissimi rischi di morire in mare arrivano in Italia con le barche. Insomma una piacevole serata per i fans di Danger D'Amico che purtroppo però non si è concesso a selfie e ad interviste. Donato all'ospedale di Brondi da parte dell'associazione Enosis un dipinto realizzato dal direttore artistico Daniela Minutolo raffigurando il gesto del Cireneo. Vediamo. L'associazione socio-culturale Enosis di Paternò ha regalato nelle scorse ore all'ospedale di Brondi un dipinto realizzato dal direttore artistico Daniela Minutolo raffigurando il gesto del Cireneo, figura biblica che fa pensare ai tanti volontari e soccorritori impegnati in tutto il mondo a confortare e ad aiutare generosamente i più bisognosi afflitti dalla sofferenza e dai disagi. Il dipinto in questione utilizzato per rendere ancora più suggestiva la quinta stazione dell'evento Pasca 2024 organizzato dalla Prologo di Paternò è stato consegnato dai vertici di Enosis e responsabile del nosocomio brondese affinché quell'immagine realizzata sul pannello di cartoncesso possa mantenere viva la consapevolezza dicono i vertici di Enosis che in ogni persona che si spende per aiutare il prossimo vi è un simone di Cirene disposto a partecipare alle sofferenze attrui. Presenti alla consegna del dipinto il direttore sanitario dell'ospedale Salvatore Pillera l'addetto all'amministrazione Pippo De Luca diversi medici e infermieri dell'ospedale oltre ai vertici e volontari dell'associazione Enosis. Un gesto molto apprezzato da tutti i presenti ha commentato il presidente di Enosis Riccardo Longo che ha ringraziato per la gentile accoglienza e ammirazione nei confronti della bellezza e del significato stesso del dipinto donato. Non ci sono novità dell'ultima ora con questa con quest'ultima notizia si chiude questa edizione a meno resta altro che salutarvi e dà appuntamento alle prossime edizioni. Una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.